Dopo due anni fedeli a Benevento hanno potuto vivere a pieno in presenza la processione del venerdì santo per la morte di Cristo. Commozione migliaia di persone che hanno accolto l'uscita dalla chiesa di Sant'Anna, lungo il corso Caribaldi, la statua di Cristo morto e della Madonna addolorata. Prima la santa messa in cattedrale presieduta dall'arcivescovo a Crocca, poi la processione che si è snodata per le vie del centro di Benevento. Forte la preghiera dell'arcivescovo a Crocca affinché la pace prevalga sugli uomini e i governanti vengano guidati dal Signore per la pace del mondo e la fine della guerra in Ucraina. Un messaggio di pace quello lanciato dal pastore della chiesa Beneventana per Pasqua. La difficoltà di questi giorni, di questi tempi non ci sommercano. Resti per noi e nella nostra vita lo spazio per un sorriso agli altri. Lo spazio per un'opera buona, lo spazio per una visita ad una persona sola. Ecco il Cristo che muore per noi ma per noi risorge, che vince la morte, ci aiuti ad uccidere la tristezza. Presenti tutte le istituzioni, i vertici delle forze dell'ordine, le associazioni e il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il fatto che ci sia partecipazione popolare dopo due anni, una sorta di piacevole risveglio da un torpore che ci ha affievolito, ci ha fatto arrancare, ci ha reso meno in grado di relazionarsi con gli altri. Intanto domani, giorno di Pasqua, la solenne celebrazione presieduta dall'Arcivescovo a Crocca alle 11 in Cattedrale a Benevento sarà trasmessa in diretta dal canale 6968 Channel TV.